No, stasera. Ma anche lei è la Maria. Ma anche lei è la Maria. Ma anche lei è la Maria. No, 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 no. Io mi sfido a questa. Lei è che le tocca a noi. No, questo è difficile. E' che sei in te, ma siamo forti. Perché siamo solo in tre? Non devi guardare quello. Dov'è la mia madre? E chi gioca? Non ci sono, ma qui. Tu, Davide. Davide. Davide ci sono. No, caro, ma qui. No. Ma in capire. Tu no. Adesso lo faccio. Eeeh, non ce l'ho. Vuoi provare tu? No, proviamo vicino al cavolo, dai. Aspetta. Io gli faccio il video. No, no, l'ho già... No, no, tu ci do. Sto a dire dove ci sto. Allora io devo andare tutto di qua. Ah, ma guarda. Sappuntiamolo prima. Prego. Aspetta. Dai, vedi, no. Ok. Io direi il video adesso. Ma non è ancora... Che cosa? Non è ancora... Che cosa è? Non è ancora... Non è ancora... Non è ancora più. No, no, no. No, no, no. Io... Io ti piace. Io in pratica ho preso il sorello Andrea perché era il più convinto. Mi piaceva. E tu non balli! No, mi parla! No, mi parla! Sì, ma io non ho neanche la mano, figurati si riesce a fare qualcosa. Sì, ma io non ho neanche la mano, figurati si riesce a fare qualcosa. Qua dovete andare. Sì, ma io non ho neanche la mano, figurati si riesce a fare qualcosa. C'è qui un numero uno, da te, devi andare su test now. Sì, ma io non ho neanche la mano, ma io non ho neanche la mano, ma io non ho neanche la mano. Sì, 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 ma io non ho neanche la mano. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.